Una chiara violazione al diritto di tutti i professionisti di concorrere alle commesse pubbliche è uno degli aspetti denunciati dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti in merito alla trasformazione di Abruzzo Engineering in società in-house della regione Abruzzo. Continua così a far discutere il salvataggio dei circa 180 impiegati della società che si occupa di consulenze tecniche, tecnologiche e aquilana, rilevata con la legge regionale dello scorso 16 luglio proprio dalla regione Abruzzo. Ha di fatti trasformato il personale dipendente di una società partecipata in personale della pubblica amministrazione con ovvie conseguenze in termini di garanzia occupazionale, evitando così però un'ampia e partecipata procedura concorsuale che avrebbe garantito la concorrenza necessaria alla base di ogni affidamento ed assunzione. L'Ordine rimarca che le procedure di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura sono aperte alla libera concorrenza di tecnici attraverso l'uso dei bandi pubblici, mentre le posizioni occupazionali di una società pubblica come Abruzzo Engineering è diventata non possono essere scelte attraverso procedure paritarie che premino invece il merito e la conoscenza. Gli ordini professionali degli ingegneri dell'Abruzzo sono preoccupati per il rischio, si legge nella nota, che il personale assunto con specializzazioni varie si ritrovi a gestire servizi professionali con competenze estranee, mentre i tecnici esterni preparati restino a guardare la spartizione del poco lavoro intellettuale rimasto. Si ribadisce, dicono gli ingegneri della provincia di Chieti, che tutti gli ordini professionali degli ingegneri d'Abruzzo saranno attenti e vigili affinché ogni azione, progettazione e servizio affidato ed eseguito dalla società in house Abruzzo Engineering avvenga secondo le effettive capacità tecniche professionali dei dipendenti, evitando di produrre distorsioni al mercato.